La società sta cambiando molto velocemente, si sta digitalizzando, i dati diventano sempre più il bene più prezioso della nostra società e però essendo prezioso diventano anche appetibili dai criminali, la criminalità e il crimine cibernetico sono in grande aumento. Noi parliamo di 400 miliardi di dollari annui di costo di questo tipo di crimine, molto più alto del narcotraffico per esempio, circa il 40% delle imprese sono colpite da questo traffico, ogni impresa ha un costo anno di circa 35 mila dollari di perdite, in Italia la situazione non è migliore, anche in Italia moltissime aziende sono colpite, moltissimi individui, le istituzioni pubbliche e soprattutto non c'è una percezione del danno, in Italia il 92% delle persone non crede di poter essere vittima di attacchi cibernetici. Le vittime degli attacchi cibernetici infatti possiamo essere tutti noi, chiunque navighi sul web è una potenziale vittima di questi attacchi, anche se ovviamente le grandi aziende sono la vittima più appetibile per i criminali cibernetici, ma anche le piccole e medie che hanno della proprietà intellettuale che può essere rubata tramite la rete. È così anche lo Stato che è stato vittima di attacchi cibernetici con due dei suoi ministeri più critici, quelli della difesa e degli esteri nel nostro paese. Chi è che attacca, chi è che utilizza la rete per fare un attacco cibernetico? Gli attaccanti rispondono a diversi fini. I criminali cibernetici sono intenzionati a fare delle truffe, delle frodi e delle estorsioni tramite la rete. Poi abbiamo gli spioni che conducono spionaggio industriale o per conto di uno Stato e che quindi sono alla ricerca di informazioni le quali diventano vulnerabili nel momento in cui sono in rete. Abbiamo poi i terroristi che utilizzano internet per diffondere ideologia e fare nuove reclute. Un ultimo caso è quello dell'activism, come per esempio il caso di Anonymous, che utilizza la rete non tanto per estorcere denaro come i criminali cibernetici, ma piuttosto per lanciare un messaggio politico. Ultimamente tutti quanti avremo sentito di WannaCry, questo ransomware potentissimo che ha bloccato i file dei computer di centinaia di migliaia di persone chiedendo un riscatto per sbloccare questi file. Le tecniche d'attacco, d'altro canto, cioè se il malware è uno strumento, esistono poi delle tecniche per portare questo malware nei computer delle vittime. Da attacchi distribuiti per bloccare le operazioni di sistemi, distribuiti denial of services, a una cosa che probabilmente tutti avremo visto nella nostra vita quotidiana, cioè gli attacchi di phishing, quelle email che ci chiedono di cliccare un link, il quale poi ci porta su un sito o ci fa scaricare in altro modo un file che è proprio quel malware di cui parlavamo prima. Sì, degli attacchi e di come difendersi ne parliamo nel libro che abbiamo appena pubblicato. Difendersi ci si difende su più livelli, ci si deve difendere a livello individuale e lì si tratta soprattutto da un lato di predisporre strumenti di difesa informatica, in termini semplici l'antivirus nel computer, ma dall'altro bisogna abituarsi a quella che viene chiamata l'igiene cibernetica, cioè bisogna aumentare il livello di sensibilità, di attenzione e di precauzione contro le possibili minacce. Simili azioni devono essere fatte da parte delle imprese che devono proteggere il perimetro industriale cosiddetto, le reti, i dispositivi individuali, la catena di approvvigionamento, il cloud, così come a livello governativo è fondamentale che il governo da solo e in collaborazione con gli altri governi metta, predisponga una serie di strumenti atti a prevenire, a contrastare questo tipo di minacce. In Italia passi avanti sono stati fatti, inizialmente con il decreto Monti nel 2013, poi con il decreto Gentiloni nel 2017, che attribuisce un ruolo importante al DIS per il coordinamento dell'attività di contrasto al crimine cibernetico. Questo è un passo importante, naturalmente va integrato nella cornice europea, ora regolata dalla direttiva NIS, che è una direttiva molto importante che integra i sistemi di difesa cibernetica a livello europeo.